Buona domenica dalla redazione di TRM H24 e bentrovati all'appuntamento con la nostra edicola. Cominciamo subito la rassegna stampa dei quotidiani di oggi sfogliando i giornali nazionali. La guerra è in primo piano su Repubblica e Corriere della Sera, il conflitto Russia-Ucraina e anche però in primo piano come potete vedere dalla prima pagina della Repubblica c'è anche quella che il quotidiano romano definisce la mattanza dei ragazzi. Il 18enne ucciso con un colpo di pistola alla testa è avvenuto a Napoli, forse un gioco finito in tragedia. È il terzo morto in 17 giorni. Abiti firmati e pistola nella cintura vanno in giro così i ragazzi che si fanno la guerra nella notte di Napoli dove la vita vale meno di un paio di scarpe e la violenza passa rapidamente da una storia sui social alle strade del cuore della città. La fotografia allora è dedicata proprio alla protesta, al sit-in Liberiamo Napoli e dalla violenza che c'è stato ieri in Piazza del Gesù. L'altra apertura come vi raccontavamo è dedicata alla guerra in Ucraina, Kiev, duello Biden-Trump. La Casa Bianca annuncia l'invio di 500 missili alla vigilia dell'incontro tra il Presidente e il suo successore. Il consigliere del Tycoon dice Zelensky sia realista, la Crimea è persa, cresce l'offensiva russa sul terreno. Poi ancora in Medio Oriente il Qatar si ritira dalla mediazione ed espelle Hamas. Questa è la prima pagina della Repubblica. Passiamo adesso al Corriere della Sera che ha un'apertura diversa dedicata agli scontri che ci sono stati ieri a Bologna in occasione di un corteo di Casa Pound. Alcuni agenti sono stati feriti dagli antagonisti che erano lì per contestare questo corteo di Casa Pound. Allora, agenti feriti. Meloni attacca scontri fra antagonisti e la polizia. La Premier, Giorgia Meloni, che dice certa sinistra, foraggia i violenti. Elish Line però risponde. Casa Pound non doveva sfilare il Ministro dell'Interno, Piantedosi, che invita il mondo della politica a prendere le distanze da certi tipi di episodi. In primo piano c'è anche questa fotonotizia. Si torna a parlare di quanto è avvenuto e di quanto sta avvenendo a Napoli, la vita e la morte dei ragazzi di Napoli. Leggiamo allora l'attacco del pezzo di Roberto Saviano. Emanuele è ammazzato il 25 ottobre, Santo ha ammazzato il 2 novembre, Arcangelo ha ammazzato il 9 novembre. Emanuele aveva 15 anni, Santo 19, Arcangelo 18. E questa è l'età in cui si muore ammazzati. Non vi stupisce il silenzio del governo, del governo comunale, regionale, nazionale. Questo è quello che sta avvenendo a Napoli, quello che sta avvenendo in questo periodo. Ucciso per gioco a 18 anni, colpo di pistola alla fronte. Come ricorda Saviano, non è certamente purtroppo il primo episodio di questo tipo. In taglio alto, anche qui il conflitto russo-ucraino, missili aiuti all'Ucraina, Biden a fretta, Milano, corteo, plaude ai pestaggi in Olanda. Perché c'è anche questa vicenda, un corteo a Milano a cui appunto alcuni partecipanti a questo corteo hanno applaudito a quello che è avvenuto nei giorni scorsi in Olanda, quando alcuni tifosi dell'Ajax hanno malmenato i tifosi del Maccabi Haifa, che erano lì appunto per assistere ad una partita di calcio. Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola oggi, passiamo adesso alla Gazzetta del Mezzogiorno, che dedica la sua apertura alla lotta per l'acqua. Gli invasi sono a secco, acquedotto pugliese e Regione corrono ai ripari a Taranto, il più grande dissallatore d'Italia. L'intenzione è quella di costruire un dissallatore e c'è anche la vignetta di Pilinini su questo che insomma dice H2 no per appunto l'assenza di acqua. E poi all'interno appalti protezione civile, l'erario risarcirà la Regione, danno da 500 mila euro, è arrivata la condanna da parte della Corte dei Conti. In taglio centrale, visite private nei guai, una psichiatra dell'ASL, della BAT, il riesame, lo libera, guadagno 30 mila euro al mese. Sempre in taglio centrale i guai giudiziari, questa volta del Presidente della Regione Basilicata, con Bardi, anche un senatore di Fratelli d'Italia, Sanita Lucana, il governatore va a processo. E poi ancora in taglio basso c'è spazio per lo sport, il Lecce trema e poi rimonta a un punto per sperare, poi però in realtà c'è stato l'esonero da parte del Lecce, del allenatore. Andiamo avanti con le prime pagine e diamo un'occhiata alle prime pagine della Repubblica Bari e del Corriere del Mezzogiorno. Partiamo da Repubblica Bari, parte l'operazione Park and Ride, 4.500 posti in più. Questo è l'obiettivo del Comune per affrontare l'emergenza. Un pool di esperti, anche di caratura internazionale, lavorerà al piano della mobilità. L'assessore Scaramuzzi che dichiara via al primo studio sul tema. In taglio alto, invece, su Repubblica Bari, un articolo sulle case popolari, aggredite due vigilesse, violenze per le assegnazioni e l'Arca si blinda per garantire la sicurezza ai suoi dipendenti. Leggiamo allora cosa è successo. Arca Puglia, l'agenzia regionale per la casa e l'abitare, ha speso 42.000 euro per mettere in sicurezza i dipendenti dopo le aggressioni avvenute negli anni scorsi, che continuano a verificarsi nel contesto dell'emergenza abitativa. Martedì, due vigilesse della polizia locale hanno raggiunto il quartiere San Paolo per identificare persone che occupavano abusivamente un immobile popolare, gli inquilini. Gli si sono posti con violenza. Questo quindi quello che è avvenuto e che ci racconta Repubblica Bari. Andiamo avanti con le prime pagine. Passiamo adesso al Corriere del Mezzogiorno, che dedica la propria apertura al tema della sanità con quest'altra nomina in famiglia nella ASL. A Lecce, nuovo incarico e facilitazioni alla moglie del direttore generale Rossi. Il caso finisce sul tavolo dell'ANAC. Il manager denunciato dalla CISAL all'autorità nazionale anticorruzione per un presunto conflitto di interessi. L'ex assessore palese, che si dice sorpreso, nel 2023 disse che rinunciava. Allora diamo un'occhiata in maniera più approfondita a questo fatto. Secondo caso di presunto conflitto di interessi all'ASL di Lecce, nel mirino del CISAL, sempre il direttore generale Stefano Rossi, segnalato all'autorità nazionale anticorruzione per una nuova nomina, assegnata alla moglie Rossana Indiveri, dipendente della stessa azienda sanitaria. Ma nella denuncia, inviata per conoscenza anche ad Emiliano, si segnalano anche la mano libera ottenuta dalla stessa Indiveri nella gestione degli acquisti fino a 100.000 euro. Questo quindi il fatto che troviamo in apertura sul Corriere del Mezzogiorno. Ancora si parla di economia. L'allarme di Fontana, che è il leader degli industriali, si firmi al più presto il patto per la Puglia. Vista l'amore destinata agli investimenti, la Puglia dovrebbe vivere un'età del loro. Invece Sergio Fontana, presidente di Confindustria, lancia l'appello affinché Governo e Regioni firmino il patto sui fondi. La questione la conoscete, quella annosa ormai dei fondi sviluppo e coesione di cui si aspetta da tempo. La firma era stata annunciata, ma fino ad ora ancora questa firma non si è vista. Non si sono visti neanche i soldi. In apertura sul Corriere del Mezzogiorno c'è anche questa fotonotizia su Lirica. Applausi convinti per l'allestimento di Barba e Doucette al Petruzzelli. La fila regimente. Torna la Lirica al Petruzzelli con un'opera mai vista prima a Bari. Andiamo avanti con le prime pagine dei giornali. Stavolta vediamo la prima pagina dell'edicola e dell'edicola dello sport. Edicola che apre con la convention di Fratelli d'Italia a cui ha partecipato il ministro della cultura Alessandro Giuli. Milioni al sud nel decreto cultura e gli hacker bloccano il tax credit. Il ministro Alessandro Giuli ad Andria per prima le idee e ritorno al futuro promette una particolare attenzione per il Mezzogiorno e svela gli sviluppi dell'indagine. Ancora sempre in prima pagina gli affari sporchi di spalla, palti e favori. La stessa ditta in tre inchieste e poi il danno erariale e le emissioni della regione costano chiaro. In taglio basso invece l'intervista Rosa Palasciano a Venezia e il mio taxi Monamur. Andiamo adesso alla prima pagina dell'edicola dello sport. Oggi è domenica, abbiamo detto, gioca il Bari contro la Salernitana in trasferta. Un gemellaggio antico in campo però. Le due squadre andranno a caccia di punti pesanti. Entrambe vogliono vincere. Continuiamo in taglio basso con l'impresa del Picerno che ieri ha battuto la capolista Benevento nel girone C di Serie C. Il Monopoli invece ha pareggiato per 0 a 0 lasciando così per strada l'occasione, l'opportunità di avvicinarsi alla testa della classifica. In Serie A invece si affrontano le conseguenze dell'esonero di Mister Gotti per cui è stato fatale il pareggio casalingo contro l'Empoli. Il Lecce ha deciso di esonerarlo. Adesso dovrà stabilire chi sarà il nuovo allenatore della squadra giallorossa e ancora torniamo in Serie C perché l'edicola si chiede in vista di Taranto Cerignola, il derby pugliese. Ci sarà il nuovo presidente rosso-blu Campbel e ancora in taglio alto, ancora in Serie inizia l'era di Zauri nel Foggia. Allo Zaccheria arriva la Juventus Next Generation dopo le dimissioni di Eziolino Capuano. Inizia dunque una nuova era per il Foggia Calcio. Abbiamo il tempo anche per vedere la prima pagina del Sole. 24 ore, apertura dedicata alle auto, al mondo dell'automotive. Le auto europee sono in crisi, vincono i cinesi ma vincono anche Tesla e GM. Il settore dell'automotive in crisi. Salgono i marchi cinesi guidati da BID sempre più forti sul mercato locale, margini di reddittività a picco per i produttori tedeschi e giapponesi. E allora questa era l'ultima prima pagina che abbiamo sfogliato insieme. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'edicola torna come sempre domattina.